Cent'anni fa Albert Einstein pubblicava la teoria della relatività generale, il centenario un'occasione per mettere a fuoco la figura scientifica, intellettuale e umana di uno dei più grandi visionari di tutti i tempi, autore di teorie che hanno rivoluzionato la concezione dell'universo, filosofo, occultissimo pacifista, convinto, spirito, irriverenti, icona e mito. Sono tante le facce di un genio che ha lasciato un'impronta indelebile nella scienza e nel pensiero contemporanei e ad Einstein pubblico Albert Privato è dedicato il libro del professore universitario e divulgatore scientifico Vincenzo Barone che è stato presentato all'Arena Bookstock nell'ambito del Salone del Libro 2016. Lei ha detto dal punto di vista scientifico siamo integralmente einsteiniani, dal punto di vista dell'immagine della scienza presso il grande pubblico quanto ha cambiato il personaggio Albert Einstein, l'immagine della scienza? Beh intanto Einstein è stato la prima icona planetaria della scienza, lo è ancora, è uno dei personaggi più riconoscibili. Questo purtroppo non vuol dire che si conosca il suo contributo quindi certamente è stato un personaggio di grandissimo rilievo, uno dei giganti del novecento ed è stato tra l'altro celebrato come persona del secolo nell'ultima copertina del novecento di Time quindi è sicuramente uno dei grandi scienziati e filosofi direi del novecento. Bisognerebbe conoscerlo di più perché insomma bisognerebbe andare al di là come dire delle sue, di quell'icona, di quelle immagini che noi conosciamo di Einstein e capire qual è la sua eredità che è un'eredità scientifica ma è più in generale un'eredità ideale, intellettuale perché oltre ad essere stato un grande scienziato è stato un uomo che non si è mai tirato indietro davanti a tutte le più importanti battaglie intellettuali e per i diritti del novecento. Quindi diciamo è un'eredità che dobbiamo imparare a conoscere anche perché è nostra e in qualche maniera dovremmo farne tesoro. L'uomo che lavora per la pace, che mette in guardia il presidente Roosevelt dal pericolo che il nazismo si doti dalla bomba atomica ma anche uomo a cui dobbiamo applicazioni tecnologiche come il GPS, rese possibili dalle sue teorie. Questa è la grande visionarietà di Einstein e dei grandi scienziati come lui. Ovviamente lui non poteva immaginare qualcosa del genere, non poteva neanche immaginare che certi effetti della relatività, per esempio la dilatazione del tempo, potessero un giorno essere verificati sperimentalmente. Noi oggi lo facciamo e non solo lo facciamo con gli orologi atomici di cui disponiamo, ma abbiamo incorporato questi effetti in alcune tecnologie di uso quotidiano. Ma non dimentichiamo che se il GPS incorpora la relatività speciale generale, i laser che sono di uso comune, sono anch'essi figli di alcune sue idee e di alcuni suoi importanti lavori di meccanica quantistica. Quindi questo è l'andare oltre, l'andare avanti. Questo è veramente il significato della visione. Quello di immaginare cose su un pezzo di carta che poi a distanza di qualche decennio entrano nelle nostre tasche.